Benvenuti! Cosa ci serve per preparare la birra baladen? Malto d'orzo, lupolo, acqua, lievito e per alcuni tipi altri cereali e spezie. Estraiamo lo zucchero, nasce il mosto. Separiamo i residui solidi di lupoli e spezie. Adesso il mosto è pronto ad accogliere il lievito. Lo zucchero diventa argolo e la birra prende vita. Dalla terra al bicchiere, degustate la nostra birra artigianale qui o nei punti di store.